Sei un fan di Totti? Hai in camera il poster di Totti? Ti fa ridere quando dice Internet per Totti! Per te in arrivo TottiFone! La compagnia telefonica di Francesco Totti, che dopo il milionesimo spot ha deciso di farsene una tutta sua e non se ne parla più. Con TottiFone paghi solo 11 centesimi senza scatto alla risposta e puoi parlare con chi vuoi, basta che sia all'interno del raccordo anulare perché già Civitavecchia non ha più campo. Con soli 20 euro al mese hai Internet, telefono fisso e un elenco di nomi strani da dare a tuo figlio. E se aggiungi mille punti TottiFone One, ti diamo pure il numero di telefono dei Ilari, così potrai parlare co Ilari. TottiFone! Questa è la Internet Key. Bene, TottiFone!